Falsa partenza per le somministrazioni dei vaccini da parte dei medici di base, le Fiale, Johnson e Johnson, 1600, quelli a disposizione del Molise, non sono state consegnate. Siamo pronti, le parole di La Vecchia, Fismu, ma serve organizzazione. Intanto i numeri sono in crescita, 2591 la media settimanale. Le case di riposo riaprono ai visitatori, gioia immensa per i parenti e soprattutto per gli ospiti. Siamo stati alla Residenza, Villa, Legginestre, Disernia, coronavirus, nessun decesso e positività all'1,45%. Inizia la settimana rosa, grande attesa a Termoli per l'arrivo del Giro d'Italia, il traguardo della settima tappa in via Martiri della Resistenza, vetrina internazionale per la cittadina Adriatica. Investe un bimbo di sei anni, non presta soccorso e fugge, donna di 62 anni nei guai a Guionesi, casa in fiamma e i due ragazzi salvati dai vigili del fondo. Attenzione alle truffe dell'SMS per il ritiro di un pacco, numerose segnalazioni alla polizia postale, ecco cosa fa. Infine lo sport, il calcio di Serie D, il campo basso pareggia a Recanati e si porta a più sei sul notaresco, sconfitto a vasto, aggredito. L'allenatore Pifani, ancora un KO per l'Agnonese, eccellenza. Fattore campo decisivo. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta da Campobasso. Tanta cronaca nel nostro telegiornale, ma l'apertura è dedicata alla campagna vaccinale. Falsa partenza per le somministrazioni dei vaccini da parte dei medici di famiglia. Le fiale questa mattina non sono state consegnate dall'ASREM, si tratta di 1600 dosi di Johnson e Johnson. Noi siamo pronti, le parole del dottore Lavecchia, medico di famiglia, ma anche segretario regionale di Fismu Molise, ma dice Lavecchia, serve organizzazione. Lo ha intervistato per noi Andrea Vertolo, sentite. Slitta di qualche giorno la fase di somministrazione dei vaccini da parte dei medici di base. L'ASREM aveva previsto il via alle inoculazioni nei vari ambulatori a partire da oggi, lunedì 10 maggio, ma le fiale non sono state ancora consegnate. In tutto sarebbero 1600 le dosi monoclonari Johnson e Johnson, che verranno somministrate da circa 300 medici di base, di cui 30 hanno dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio nei propri studi medici. Al momento però resta tutto fermo, come spiegato dal rappresentante della Fismu, Ernesto Lavecchia. La situazione ad oggi è che praticamente ancora i vaccini non ci vengono consegnati. Io farei un plauso come Fismu all'azienda sanitaria, perché sta praticando per cercare di ottenere la migliore campagna vaccinale sul territorio. Però ci sono delle difficoltà probabilmente di comunicazione che sono andate un attimino oltre. Quindi dire che praticamente oggi, lunedì 10 maggio, si iniziavano le vaccinazioni presso i nostri ambulatori forse è stato un attimino così eccessivamente data senza un minimo di coordinamento. Le notizie spesso fuggono anche da chi le emette e quindi probabilmente c'era un discorso che forse da lunedì si poteva partire, ma è chiaro che manca ancora un'organizzazione. Noi come Fismu, Molise, abbiamo mandato una PEC alla Regione e alla Direzione Generale dove richiediamo alcune delucidazioni sulla pratica vaccinale. Fermo restando che noi siamo d'accordo a vaccinare. Molti di noi potranno vaccinare negli ambulatori, altri vaccineranno nelle strutture che l'azienda metterà a disposizione. Stiamo chiedendo semplicemente alcune delucidazioni che sono rispetto al target a chi dover indirizzare l'eventuale vaccinazione, come fare per potersi iscrivere sulle due piattaforme perché avremo una piattaforma, l'una, che servirà per comunicare al Ministero le vaccinazioni effettuate perché ogni sera vogliono fare il conteggio che serve per arrivare alle 500.000 vaccinazioni al giorno e quindi comunque per avere dei dati aggiornati. E poi c'è un'altra piattaforma con Federpharma che ha messo a disposizione per poter richiedere il numero di vaccini. Ma è chiaro che dobbiamo sapere a chi indirizzare i vaccini e quindi quanti vaccini possiamo ordinare. Siamo pronti a vaccinare. C'è un esercito sul territorio pronto a vaccinare. Molti di questi sono pronti a vaccinare nelle strutture pubbliche. Altri sono pronti per vaccinare. Noi siamo pronti. Ci vanno i vaccini, sistemiamo queste cose, non ci sono assolutamente problemi. La campagna vaccinale in Molise sta dando dei grossi risultati. Io penso che questa cosa debba continuare con l'ausilio dei medici di medicina generale perché la capillarità la otteniamo in questa maniera. Fermo restando l'utilizzo degli hub vaccinali che sono abbastanza buoni sul territorio, qualche d'uno forse inutilizzato. Siamo sulla campagna vaccinale perché ieri sono state 2.071 le dosi somministrate. Più in generale, ancora una settimana con numeri in crescita, quella appena trascorsa. La media quotidiana delle dosi somministrate è salita a 2.591. Nei sette giorni precedenti era 2.047. Nella giornata di sabato, come saprete, si è registrato il record regionale di inoculazioni con quasi 3.000 dosi. Nell'ultima settimana i vaccini somministrati sono stati in tutto 18.141, erano stati 14.332 nei sette giorni precedenti. Complessivamente, dall'inizio della campagna vaccinale, in Molise, le dosi utilizzate sono state 140.275, pari al 92,47% di quelle consegnate. Per quanto riguarda le categorie, quasi 58.000 sono andate agli over 60, quasi 46.000 quelle ai soggetti fragili. Ed ora l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale sul coronavirus. Nessun decesso e positività all'1,45%. Valentina Ciarlante. Tanti i vaccini somministrati nelle ultime ore, dopo il record di sabato, con 2.919 dosi inoculate, pochi i tamponi processati in questa domenica. Solo 137, da cui sono emersi due positivi, uno a Esernia e uno a Fornelli. Il tasso di contagiosità è quindi all'1,46%. La buona notizia è che non risultano decessi, anche se il numero delle vittime fa sempre riflettere sulla gravità di questa pandemia, 483. Dal bollettino ASREM emerge però il nuovo ricovero in malattie infettive. Si tratta di una persona di guardia regia e che si sono aggravate le condizioni di un paziente dicapriati al volturno, trasferito in terapia intensiva al Cardarelli. In questo reparto al momento ci sono 5 degenti, 25 invece si trovano in malattie infettive. La pressione sull'ospedale Campobassano è diminuita di molto e intanto le altre strutture continuano a rimanere covid free. Guarite 32 persone, in tutta la regione 445 sono quelle attualmente positive e 2.941 quelle in isolamento. Per la seconda settimana consecutiva a Campobasso il numero dei pazienti risultati guariti dal covid-19 torna a essere nettamente superiore rispetto al numero dei nuovi positivi rilevati in città nel periodo dal 3 al 9 maggio. Sono infatti ben 69 i cittadini campobassani che in questi ultimi 7 giorni sono guariti dal virus pandemico. In totale questa mattina, 10 maggio, la piattaforma dell'Aserem indicava per Campobasso 97 casi di positività in totale. Ha fatto sapere il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Questi dati confermano un sostanziale equilibrio rispetto a quanto sta accadendo a livello nazionale e regionale anche sulla spinta della campagna vaccinale che speriamo riesca in tempi contenuti a mettere in sicurezza sempre più cittadini. Ci sono però ancora molti fattori da considerare prima di poter affermare che ci avviamo verso una fase diversa. Proprio per questo ha affermato Gravina l'attenzione ai comportamenti e alle regole da rispettare deve essere parte integrante delle nostre abitudini quotidiane. E da qualche ora le case di riposo hanno riaperto ai visitatori gioia grande per parenti e soprattutto per gli ospiti. Siamo stati alla residenza Villa Legginestre di Isernia. Sentite Nicola De Santis. Giornata storica, sì sì sì, finalmente, ma anche per le altre strutture, finalmente si sta un po' più tranquilli. Da oggi le case di riposo possono tornare ad accogliere i parenti e gli amici degli ospiti. Felici i visitatori che sino a ieri avevano potuto ottenere notizie dei congiunti tramite vertici delle strutture oppure tramite videochiamate col cellulare. Sicuramente oggi è una bella giornata perché siamo potuti entrare nella casa dove attualmente c'ho zia ricoverata e sono contenta perché dopo tanto tempo magari ci vediamo a una distanza un po' più ravvicinata quantomeno non stiamo al di là del cancello e quindi per noi è una giornata bella anche perché poi c'è il sole e quindi li portiamo un po' fuori e tutto quanto, insomma. Ancor più felici sono gli ospiti delle varie strutture perché in questi mesi si sono sentiti soli non hanno potuto abbracciare i parenti e hanno vissuto una condizione di sospensione simile ad un limbo. Signor Florindo, lei quanti anni ha? 99, non mi ha arrappato a 100, se diavolo ce la faccio. Quindi tra un po' dobbiamo festeggiare? E non festeggiare? Il secolo diventa. Ma speriamo che ci speriamo, che ce la facciamo. Signor Florindo, lei è contento che oggi questa struttura riapre verso l'esterno? E' come no, è bello. Magari fosse così, è tutto bello, è all'aperto, è bellissimo. E siamo contenti. Da oggi si riparte con la visita da parte dei parenti, è contenta? Certo, sì, molto contenta. Ieri è venuto mio figlio Angelo. Dopo quanto tempo? E' più di un mese, perché lui sta lontano, per venireci vuole due ore per venire a trovarmi qua. Sta vicino a Vasto. E' stata felice? Certo, felicissima. Ho uscito fuori a quell'altra parte, siamo chiacchierate un bel poco. Mi hanno portato dei regalini, che è la festa della mamma, ieri. E sono rimasta molto contenta, sì. Si torna alla normalità. E speriamo che ritorna presto alla normalità. Così abbracciamo tutti i figli. Io ce ne ho cinque figli maschi. Da oggi questa struttura riapre all'esterno, riapre alla visita dei parenti. E' contenta? Sì, sono contenta. Sono contentissima. Io mi devo vedere pure i miei. Voglio vedere la mia figlia perché è già sposata un mesetto fa. È una bella coppia, Daniela e Alan. Da quanto tempo non vede sua figlia? È un anno. E' successo il suo virus. Come la poteva? La poteva mai vedere mia figlia? Soddisfatti infine anche i proprietari e gestori delle case di riposo. Poiché da oggi possono tornare a confrontarsi in presenza con le famiglie sulle necessità e sulle condizioni degli ospiti. Sì, finalmente domenica è uscita questa nuova circolare del ministro Speranza e parzialmente abbiamo riaperto. Io ho riaperto solo all'esterno. Per l'interno invece sto ancora studiando e cercare di capire questa norma com'è. Ospiti immagino felicissimi dopo oggi. Sì, gli ospiti iniziano ad essere contenti, i parenti anche, si stanno tranquillizzando un po' con tutti quanti. Tu considera che io ho chiuso il 26 febbraio del 2019 e ancora non entra nessuno dentro. Facendo queste attenzioni qua dentro non è entrato mai il virus, per fortuna. Allora andiamo a Termoli. C'è grande attesa per l'arrivo della settima tappa del Giro d'Italia. L'evento è stato presentato questa mattina in Consiglio Comunale. Una vetrina, quella di venerdì, una vetrina internazionale per la cittadina adriatica. Sentite. Tutto pronto per la settima tappa del Giro d'Italia. Notaresco Termoli di 181 chilometri, prevista venerdì. Il giorno successivo alla partenza da Foggia è nuovo passaggio in Molise per gli svincoli di Gambatesa, Monaciglioni, Campo di Pietra, salendo fino a Campobasso, Vinchiaturo, raggiungendo poi Guardiareggia, da dove si salirà fino a Bocca della Selva. Due giorni importanti, in particolare venerdì con Termoli sugli scudi, è stato un lavoro di squadra, quello compiuto in questi ultimi mesi, per riuscire a portare il Giro d'Italia in città. Ha spiegato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, la carovana rosa. Farà il suo ingresso dal lungomare nord, dove le biciclette saranno impegnate in una corsa di 5 chilometri prima di affrontare la salita del panfilo che le porterà su corso Mario Milano. E poi procederanno lungo corso Umberto I, corso nazionale, fino a via Martiri della Resistenza. luogo di arrivo e di fine corsa. L'evento è stato presentato questa mattina in Consiglio Comunale alla presenza della Giunta del Comandante dei Vigili Urbani, Pietro Cappella, e del dirigente Silvestro Belpulsi. Abbiamo circa 6 chilometri e mezzo di tappa che parte da Termoli Nord fino ad arrivare nel cuore di Termoli, quindi per il lungomare, per la stazione, fino a risalire per Viale Trieste ed arrivare al Terminal Lusso. Durante tutto questo percorso i cittadini si possono tranquillamente posizionare sul ciglio delle strade, dove ci sarà la nostra protezione civile e le forze dell'ordine, che garantiranno la sicurezza e vedere i loro beniamini e vedere l'arrivo dei loro campioni. Gli atleti impegnati nella corsa saranno accompagnati da un convoio composto da 100 auto, 50 moto e 5 ambulanze, le pattuglie della polizia locale, delle forze armate termolesi e i soccorsi locali impegnati dalle 6 alle 22, una vetrina internazionale per la cittadina adriatica. È una grande opportunità non solo per la città di Termoli, ma per la regione intera. Ci saranno quasi 150 paesi collegati con le loro televisioni, quindi una platea di quasi un miliardo di persone che conoscerà meglio Termoli e il Morise. Sono due i maxi archi che saranno posizionati lungo la cittadina. Il primo soccorso nazionale che indicherà agli atleti di essere giunti all'ultimo chilometro, l'altro in via Martiri della Resistenza, dove ci sarà l'arrivo. Siamo finalmente entrati nella cosiddetta settimana rosa, quindi la settimana che ci porterà a accogliere Termoli, ad accogliere la settima tappa dell'edizione numero 104 del Giro d'Italia. Quindi Termoli si sta vestendo a festa per questa ricorrenza. La cronaca, i carabinieri hanno individuato un pirata della strada, fuggito dopo aver investito un bambino e lo hanno denunciato in stato di libertà. Si tratta di una donna di 62 anni di palata, incensurata, denunciata come dicevo per lesioni personali, fuga in caso di incidente con danni a persone ed omissione di soccorso a persone ferite in sinistro stradale. Ancora la cronaca, BMW contro SUV Land Rover, incidente questa mattina sulla Statale 17 nei pressi di Boiano. L'impatto è stato violentissimo, i due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso. Non sarebbero in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la BMW guidata da un 80enne si sarebbe messa sulla strada da uno spazio antistante, sulla corsia opposta sopraggiungeva il SUV alla cui guida c'era un quarantenne. Inevitabile l'impatto, auto danneggiate, autisti feriti, forti rallentamenti alla circolazione sul posto. Le ambulanze del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco di Campobasso e personale dell'ANAS. E casa in fiamme a Guionesi, ieri sera due ragazzi salvati dai vigili del fuoco, allertati dai passanti che avevano notato del fumo uscire dall'abitazione. All'interno due ragazzi che stavano dormendo, ignari di quanto stesse accadendo, provvidenziale, dunque l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. E cade da una impalcatura di un pilone della 14, è successo sabato a Campomarino, ebbene il PM della procura di Larino, titolare del fascicolo, ha disposto la restituzione della salma ai familiari, col nulla osta alla sepoltura, rinunciando all'esame autoptico e acquisendo solo le risultanze dell'ispezione cadaverica esterna effettuata. Sabato mattina alla sala mortuaria dell'ospedale Santimotio di Termoli, eseguita dai medici legali dell'Ateneo di Foggia, incaricati come consulenti dalla magistratura frentana. La tragedia è la morte bianca venerdì pomeriggio, sabato mattina, come dicevo, l'esame autoptico. Già ieri sera il feretro è partito per Iesi, località dove risiedeva lo sfortunato 55enne. Attenzione alle truffe dell'SMS per il ritiro di un pacco. La polizia postale ha ricevuto numerose segnalazioni. Ecco come comportarsi. Sentite. Il meccanismo è semplice. Sul cellulare arriva un messaggio che avvisa l'utente dell'imminente arrivo di un pacco. L'SMS inviato da un finto corriere invita l'utente a scaricare un Trojan. Il testo del messaggio è più o meno sempre lo stesso e fa riferimento a un pacco in arrivo o in giacenza. L'invito è a cliccare sul link per tracciarne la spedizione entro 48 ore, altrimenti il pacco sarà restituito al mittente. La pagina che si apre successivamente chiede di effettuare un pagamento per sbloccare il pacco in arrivo. È così che gli hacker accedono alle informazioni personali degli utenti. Può accadere che si formi anche la cosiddetta catena di Sant'Antonio con il messaggio inviato automaticamente ad altre numerazioni presenti in rubrica. la Polizia Postale sottolinea che l'unico modo per proteggersi è quello di non cliccare assolutamente sul collegamento contenuto nell'SMS. Il tuo pacco sta arrivando e se il click sul link viene effettuato il consiglio è quello di formattare lo smartphone, informare i contatti rubrica e modificare tutte le password utilizzate nello smartphone, social, mail, applicazioni e soprattutto quelle dell'home banking. Dalle prime luci dell'alba nel comune di Caivano, nella provincia napoletana in quella di Bergamo, Isernia, Imperia, Benevento, Cosenza, Forlicesena e Caserta i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 49 soggetti ritenuti vicini al clan Sautto Ciccarelli e gravemente iniziati a varo titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. In provincia di Isernia i carabinieri di Venafro hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare ad un ragazzo del 93 originario di Napoli ma residente a Fornelli con precedenti specifici in Molise per scontare gli arresti domiciliari. Anche per lui l'accuso è dispaccio aggravato dal metodo mafioso. Ed i carabinieri della compagnia di Agnone hanno contestato nove sanzioni amministrative per aver violato le norme anti-covid ad altrettanti giovani sorpresi per le vie cittadine oltre l'orario di coprifuoco. Tra questi un giovane uscito fuori strada con la propria autovettura è sorpreso con un tasso alcolemico superiore alla soia consentita che pertanto oltre alle sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni covid e per la guida sotto l'influenza dell'alcol si è visto ritirare la patente di guida. Sono 201 i comuni italiani che potranno freggiarsi della bandiera blu tra queste spiccano la Liguria, 32 località, la Campania con 19 bandierine ed altre località italiane. In Molise la spunta solo Campomarino. Questa mattina alle 11 si è tenuta in diretta Facebook in linea con le norme anti-covid la cerimonia per l'assegnazione della bandiera blu 2021. La bandiera blu rappresenta per noi un appuntamento importantissimo. Le parole dell'assessore al turismo di Campomarino De Giglio mentre il sindaco Silvestri ha sottolineato che il conferimento dell'importante vessillo è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e questa, ha aggiunto ancora il sindaco, sarà la stagione della rinascita. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per martedì 11 maggio sul Molise in arrivo una nuova perturbazione nord-atlantica avvio di giornata stabile, più nubi nel pomeriggio venti moderati, mare poco mosso, queste le temperature nel dettaglio Campobasso minima 13, massima 25, esernia minima 11, massima 26, termoli minima 16, massima 26, venafro minima 12, massima 24 gradi. Tutto per questa edizione, ci vediamo alle 19.30 con l'edizione della sera alle 21. Fuoco incrociato con Rita Iacobucci, ora linea alla regia tra pochissimo la pagina sportiva con in primo piano il calcio di Seredi, le gare del Campobasso dell'Olimpia Agnonesi e parleremo anche di eccellenza tra poco. Il calcio di Seredi, il raggruppamento F, 28esima giornata, con la grafica vediamo i risultati che sono maturati sui campi, Cinzia, Alba, Longa, Fiuggi 2-2, Pineto, Olimpia, Agnonese 3-1, Porto, Sant'Elpidio, Castelfidardo 0-0, Real, Giulianova, Montegiorgio 2-1, Re Canatese, Campobasso 0-0, Rieti, Aprilia, Rinviata, Tolentino, Matese 2-2, Vastese, San Nicolò 2-0, Vasto, Girardi, Castelnuovo, Rinviata. La nuova classifica con il Campobasso in testa che allunga sul San Nicolò si porta a più 6, la formazione di Mirko Cudini, poi Cinzia, Alba, Longa con 45, Castelnuovo 42 insieme al Matese, 39 punti per Pineto, Re Canatese e Castelfidardo, Montegiorgio 36, Vasto, Girardi 35, l'Olimpia, Agnonese che resta in fondo alla classifica con 5 punti all'attivo. E allora il Campobasso sfiora la vittoria a Re Canati contro una delle migliori formazioni del raggruppamento, finisce in pareggio ma è un pareggio dolcissimo perché complice la sconfitta del Notaresco, i Lupi si portano a più 6 sulla seconda della classe. Sentite. La volontà non è mancata, il dinamismo le due squadre ce l'hanno messo, ma spazi bloccati, difese attente, nessuna prudezza individuale, pochissimi errori dei singoli, comunque non decisivi. Morale, non poteva che finire a reti inviolate tra Re Canatese e Campobasso ed in fondo il risultato non dispiace ed è la fotografia quasi perfetta di quello che si è visto in campo. Per carità il ritmo c'è stato ma di occasioni davvero pochine, frutto di qualche spunto episodico. Tra l'altro i due allenatori hanno dimostrato ed aver preparato l'incontro alla perfezione conoscendo gli avversari a mena dito e neutralizzando quelle che potevano essere le fonti del gioco più pericolose. Insomma qualche fiammata e niente più e da qui in avanti ognuno cercherà di perseguire i propri obiettivi. Giovanni Pagliari, allenatore della Re Canatese. Abbiamo provato in tutte le maniere perché logicamente abbiamo dovuto anche difendere, chiudere gli spazi però i ragazzi sono stati incommiabili con un caldo veramente pesantino però abbiamo combattuto fino alla fine, ci abbiamo avuto l'occasione anche alla fine con Luca un paio di tiri dalla distanza. Non ci sono state grandissime occasioni da golle però sicuramente una buona gara. È un momento che stiamo facendo bene, sicuramente sarebbe piaciuto seguitare la stricea dei vittori però bisogna essere anche lucidi e non essere troppo presuntuosi perché la squadra sicuramente che abbiamo incontrato non era il Porto Sant'Epidio con tutto il rispetto al Porto Sant'Epidio, questa è una grossissima squadra che vincere il campionato e noi sia all'andata che perdiamo su un calcio d'angolo alla fine e sia oggi siamo stati alla pari, i ragazzi per me sono stati bravissimi, hanno dato tutto anche i giovani che sono entrati alla fine, Alessandretti e Guercio hanno fatto molto bene perciò di questo sono molto soddisfatto. Cronaca in pillole, decimo del primo tempo, l'attivissimo Ladu lavora un buon pallone a limite appoggia per Cogliati, diagonale che sfiora il palo lontano dalla porta di Amadio. Diciassettesimo, verticalizzazione di sbaffo per un Liguori che sembra indiavolato creando molti problemi a Vanzan, evitato dal mazzi con un sombrero, conclusione però fuori misura. I molisani insistono sulla sinistra approfittando dei problemi di Togolà lungo lancio di menna per Cogliati e la botta del centroavanti da posizione defilata termina non lontanissimo dai pali. Al ventottesimo ancora Cogliati va via sulla fascia, cross basso e teso per Vitali che anticipa tutti e sfiora di un soffio il vantaggio. Poi più nulla sino all'intervallo e stesso Copione con pochissime varianti nella ripresa. Affiora la stanchezza, i crampi fanno vittime, prima Donzelli poi Candellori e da allora ci si affida le forze fresche. Ventottesimo, Senigalliese appena entrato si fa notare per un bello spunto che costringe Raccichini ad un'area spinta tutt'altro che semplice. Di Domenico Antonio al trentunesimo tocca il suo primo pallone e smarca Vitali che solo davanti a Rema Maddio conclude in maniera non irresistibile ed il portiere giallorosso se la cava di piede. Trentatresimo, ancora Senigalliesi da lontano e stavolta come si suol dire la sfera fa davvero la barba al montante. Non succede più nulla, le squadre si adeguano ed in fondo per tutti va bene così. Mirko Cudini, allenatore dei Molisani. Che sapevamo che era difficile, quindi l'area canatese è proprio nel suo DNA e negli anni di Serie D ha sempre fatto organici importanti. Quindi quest'anno ha avuto l'incommenza di fermarsi per il Covid e quindi ripartire strada facendo e quindi ha perso terreno però ha una formazione importante, una rosa importante e non era facile fare punti qua in questo momento della stagione per quanto riguarda loro. Quindi venivano tre vittorie consecutive. Noi sappiamo la nostra forza, abbiamo cercato di fare la partita anche oggi qua. Speravamo di portarvi a bottino pieno, non ci siamo riusciti però un punto alla fine è guadagnato, visto i risultati degli altri. Usare qualcosina in più, forse a volte bisogna avere anche le caratteristiche per usare. Noi oggi eravamo senza Esposito e senza Rossetti, due giocatori importanti nel reparto avanzato quindi avevamo poche alternative in panchina. Avevamo deciso di non partire con Di Domenico Antonio dall'inizio per averlo poi strada facendo però ecco, altre alternative per poter incidere sulla partita e cercare di usare qualcosa non avevamo quindi la partita da fare, sapevamo che era questa, altre situazioni forse si poteva cambiare modulo allargando due esterni però devo dire che stavamo gestendo bene e stavamo anche sviluppando abbastanza bene. Campobasso a più 6 sul Notaresco grazie al successo di ieri dell'Avastese e proprio sulla formazione del San Nicolò Notaresco. E al termine del match, momenti di grande tensione all'uscita dal terreno di gioco il tecnico dei abruzzesi del San Nicolò Massimo Epifani durante un parapiglia è stato colpito, finito a terra, è stato trasportato in ospedale per lui 15 giorni di prognosi Epifani sarebbe stato aggredito da una persona che non ricopre cariche ufficiali all'interno della società dell'Avastese, indaga la polizia. E' ancora una sconfitta per l'Olimpia agnonese che perde 3 a 1 in casa del Pineto anche qui il servizio con le immagini salienti del confronto. Nel Vec valido per la 28esima giornata il Pineto vince e convince per 3 a 1 sul proprio campo contro l'Olimpia agnonese in vantaggio. I padroni di casa nella prima frazione con Mini Incleri nella ripresa Amozu pareggia immediatamente per i suoi biancazzurri però non si abbattono e con Romano rimettono la freccia del sorpasso. Calcio d'inizio per gli ospiti, prima sortita a tenamana della quercia crossa il pallone per poco, non si incastra nella rete avversaria con Carriero che smanaccia in corner. L'Olimpia agnonese ben messa in campo va vicinissima al vantaggio filtrante per Sapone che tutto solo stampa la sfera sul palo graziando i biancazzurri. Ancora i molisani spingono sull'acceleratore Sapone tracciante per Amaia bravo Mercorelli a rimanere freddo e disinnescare. Gol mangiato, gol subito. Mini Incleri dal limite toglie le ragnatelle dall'angolo a Carriero battuto il vantaggio dall'infa agli adriatici. Un giro di lancette dopo Minnozzi a giro va vicinissimo. A raddoppio sempre il numero 17 su punizione sfiora il palo e il nono gol in campionato. Nella ripresa i molisani trovano subito il pari. In decisione la retroguardia locale Amuzo di controbalzo trova il gran gol del pareggio. La squadra del presidente Brocco non ci sta. Mini Incleri pennella la sfera al bacio per Romano. L'ex Sarremese da due passi insacca il pallone del 2-1. Bertolo prova a beffare Carriero dalla distanza che se la cava in due tempi. I terramani alzano i giri del motore. Cercelluti si mette in proprio e conclude dal limite l'estremo ospite e blocca sempre l'11 di Pomante e prova a chiudere la contesa della quercia. Apertura panoramica che trova tutto solo Mastrippolito che manda alle urtiche da ottima posizione. Sempre gli abruzzesi vogliono con tutte le forze il gol della sicurezza. Cercelluti sgroppa a tente Bucaro e lo serve. Il mancino del numero 11 si spegne di poco fuori. Poco male per i biancazzurri nel finale. Mesisca non riesce a beffare Carriero ma tap in vincente di Bertolo che regala il terzo gol e i tre punti ai locali. Il torneo di eccellenza. Terza giornata con la grafica. Vediamo i risultati che sono maturati sui campi. Turno di riposo per il Città. Di Isernia, Aurora, Alto, Casertano, Sesto Campano 1 a 0. Termoli 1920, San Leucio, Volturnia 3 a 0. Venafro, Boiano 4 a 0. In classifica in testa c'è l'Aurora, Alto, Casertano con 9 punti. Poi Isernia e Termoli. Boiano e Venafro con 3 punti. Ancora ferme a 0. Sesto Campano e San Leucio, Volturnia. E allora fanno festa le squadre ospitanti nel terzo turno, come avete visto dalla nostra grafica. Il perché di queste affermazioni nel prossimo servizio curato per noi da Vincenzo Ciccola. Terza giornata all'insegna del fattore campo dominante nel torneo di eccellenza. Al sabato, nell'anticipo, espluate il Venafro per 4 a 0 sul Boiano, con tripletta ai Lombardi, di cui un gol su rigore, e rete di Minichiello. Una vittoria rotonda è stata anche quella del Termoli, che si è sbarazzato della San Leucio-Volturnia per 3 a 0. Avanti con Flor Barrios all'undicesimo, i basso molisani hanno raddoppiato nella ripresa grazie a Silvano, cinquantunesimo, ed hanno chiuso definitivamente i conti con il da poco entrato Rosafio a 4 minuti dal novantesimo. Una rete di falle fuoco sugli sviluppi di un corner al settimo ha infine permesso all'Aurora Alto Casertano di mantenere la vetta della classifica in solitaria, col sesto campano che però, sul finale di prima frazione, ha particolarmente protestato per un episodio dubbio in aria, richiedendo l'assegnazione di un rigore per un possibile fallo di mano. È tutto anche con lo sport, grazie per averci seguito, arrivederci. grazie per averci seguito,